Molto bene ragazzi avete fatto un ottimo lavoro nello sconfiggere Pim Pam Pum Ma ora abbiamo una missione importante Capito? I guardi della galassia ci hanno appena segnalato Forse dicendo che dovremmo lavorare domani Ma ci sono le vacanze di Natale Ragazzi noi siamo gli Avengers Non possiamo permetterci delle vacanze neanche nel periodo di Natale Dire tanti saluti alle vacanze di Natale Non ho detto esattamente quello E soprattutto non ho detto tanti saluti Ma posso dirlo ora riguardo a questa conversazione Tanti saluti Che branco di immaturi Tony Tony Star Sono io Wonder Man Sono stato tuo amico in vita Ma poiché ti sei dimostrato senza cuore Sarai limitato da tre spiriti Aquaman ma non sei morto? Oh no? Sei sicuro? Beh lo sei stato alcune volte ma ora sei vivo Fantastico Ogni modo ecco di qui il primo spirito Divertiti Sei la testa di ferro? Io sono lo spirito del Natale passato Ed è ora di scoprire perché tu odi così tanto il Natale E anche tu sei morto No ma rompere la quarta parete rende il viaggio nel tempo più facile Qui è dove tutto è iniziato Almeno spero perché siamo già qui e non ho controllato Papino Cosa c'è nella mia carta di Natale? Di certo nessun regalo amorevole da parte mia Questo è sicuro Questo dovrebbe aiutarvi Ah giusto Fanculo al passato Andiamo a vedere il presente Ah si sono anche il fantasma del Natale presente Sai ho fatto un contratto d'affari per queste cose Vediamo come se la cavano gli Avengers Ora che tu li stai facendo lavorare Sono spiacente compagni Poiché il signor Stark mi ha costretto a lavorare quest'oggi Non sono riuscito a preparare altro che la deprimente specialità di mia madre Il piccione Ross Allora non so perché questo sia succedendo Ma non può essere colpa mia Pensi che questo sia brutto? Dai un'occhiata come sarà il futuro se non cambi i tuoi modi di fare Ups futuro sbagliato Questi sono i giorni di un futuro passato Terminare puttante Il 2099 Niente male comunque Non so che universo sia questo Però mi piace Di nuovo sbagliato Questo è strano Questo è il grande universo del maperato Ok Basta Se dico che hai imparato la lezione mi riporterai indietro Per me va bene Ehi tu scarafaggio Vai a prendere il più grosso tacchino Che riesci a trovare Allora prima di tutto Io non sono uno scarafaggio E stavo passando sul mercato Secondo Il mio nome è Hank Ci conosciamo da anni E certo Questo è signore Il mio più grande tacchino Che riesci a trovare signore E questo è il motivo per cui tutti voi avete diritto Delle vacanze di Natale Hooray 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 Hooray